Chiusura positiva per Piazza Affari con l'indice Fuzzi Mib che a fine giornata segna più 0,89% a 20.885 punti e l'All Share meno 0,77% a 22.217 punti. Negativo lo Star con meno 0,34%. Segno più anche per Parigi e Francoforte che chiudono rispettivamente a più 0,40% e più 0,36%. Unica eccezione in Europa è Londra dove l'indice Fuzzi 100 chiude in calo dello 0,31% a 6.717 punti. Lo spread tra BTP decennale e omologhi tedeschi chiude a 165 punti con il rendimento al 2,88%. A sostenere Milano è soprattutto il rimbalzo dei titoli bancari. Bene in particolare il Banco Popolare più 3,32%, intesa San Paolo ed MPS che chiudono a più 2,9%. Balzo di Azimut più 4,42% dopo un report positivo di Deutsche Bank.